secondo colpo in casa atalanta ragazzi stiamo parlando del giovane classe 2000 bakker e questo giocatore qua ragazzi è particolarmente che posso dire sono particolarmente interessato ecco a questo giocatore per quanto la giovane età nonostante abbia già fatto anche qualche presenza importante anche a livello europeo come champions league ed europa league un colpo che secondo me atalanta con gasperini con i giovani chissà valorizzare alla grande può fare assolutamente bene ragazzi andiamo a scoprire un po che questo giocatore andiamo a leggere l'articolo di sky sport poi andiamo anche sul transfer market no per vedere un po le sue caratteristiche la sua nata di nascita e turi c3 eccetera e poi vi dico la mia sostanzialmente allora l'articolo di sky sport ragazzi dice dice questo aspetto boccia il computer leggermente lento eccolo qua colpo di mercato atalanta il club bergamasco ha chiuso per l'acquisto di michelle backer dal bayern l'everkusen o michelle backer non so se c'è michelle o comunque michelle backer dal bayern l'everkusen il club per cassi ha dovuto battere la concorrenza del verde brema quindi anche il verde brema era interessato a questo giocatore che fino a ieri sembrava avere in pugno il giocatore l'olandese classe 2000 arriva a bergamo a titolo definitivo per 10 milioni di euro quindi ragazzi giocatore che comunque viene anche pagato 10 milioni e infatti poi non le casse del bayern l'everkusen per backer domani domani le visite mediche e poi la prima sul contratto qui già domani ragazzi visita e firma è già a posto che sarà di quattro anni quindi un quadriennale per backer ci sta perché comunque ragazzi giovane giusto crescere in casa e poi sempre venerdì atteso anche colasinac che firmerà un biennale ma su colasinac ragazzi ci aver già fatto un video e se volete lo trovate sul mio canale allora il profilo di backer eccolo qua eccolo qua nato il 20 giugno classe 2000 è cresciuto calcisticamente nell'ajax backer si è trasferito al pari san germain due stagioni quindi ha fatto due stagioni comunque una squadra neanche scarsa con 40 presenze nel 2021 il passaggio dal bayern l'everkusen con i tedeschi che ha collezionato sessare collezionato 65 presenze quei tedeschi impreziositi anche da quattro gol quindi nel senso è un difensore che quando possiede a terzino sinistro gaspini dovrebbe utilizzarlo a tutta fascia qui dopo colasinac un altro esterno però che a gasperini piace molto giocare con le fasce questo qua un altro esterno un altro terzino che può spingere ma può anche giocare la difesa 3 c'è scritto qua nel articolo di sky sport quindi è anche un giocatore inutile su questo punto di vista no ed è una cosa comunque molto buona un aspetto non secondario come appunto ci riporta qua sky sport ecco vi ho già detto io nonostante la giovane età vanta un'ottima esperienza a livello internazionale con 23 presenze tra champions league e europa league ragazzi non sono poche 23 presenze per un classe 2000 in europa league e in champions league poi per carità ci sono quei fenomeni che ovviamente ne giocano quelle competizioni però è un giovane secondo me da scoprire no da da scoprire sono curioso allora ha vinto anche qualcosa comunque il giocatore 9 milioni è il valore del mercato l'atlanta lo paga 10 quindi siamo lì siamo lì ragazzi all'incirca siamo lì ha vinto un ha vinto un campionato è un campione di francia con le pari san germain ovviamente quindi ci può stare sicuramente magari non da protagonista però comunque è un trofeo che il giocatore si porta a casa ha vinto due coppie francesi quindi non male vincite la coppa della laga francese quindi un'altra coppa ha vinto anche la coppa olandese con quanto pare l'ajax ha vinto anche un under 17 champion quindi ragazzi è un giocatore che comunque qualche trofeo da protagonista o non da protagonista lo ha alzato ecco qua ragazzi la duttita di questo giocatore ruolo terzino sinistro ma all'occorrenza ti può fare anche il centrocampista di sinistra quindi in questo caso l'esterno di sinistra quindi può giocare anche più avanzata questo giocatore ma allo stesso tempo ti può fare anche il difensore centrale ti può giocare il difensore centrale dalla parte sinistra e il difensore centrale dalla parte destra cioè a parte il dave poi il terzino destro il terzino destro non lo sa fare non è che poi anche di tutto questo giocatore ma comunque la difensore centrale adesso a sinistra al terzino sinistro all'esterno ti fa tutto ragazzi ti fa tutto un secondo giocatore duttile seccolasina che è duttile ma è un giocatore di esperienza questo qua ragazzi invece è un giocatore duttile ma giovane giovane che può veramente tanto 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 crescere e la carriera comunque ragazzi parla da sé cioè nel senso ha fatto un'ottima un'ottima carriera con il con il generale presso un 2000 ha fatto già comunque squadre importanti comunque ripeto in bundesliga 53 presenze 4 golle e 6 assist per un terzino sinistro che a volte viene impiegato anche il difensore centrale non sono pochi è comunque 870 minuti 870 ha partecipato alle azioni 3478 minuti giocati quindi un giocatore che non è riserva ha fatto titolare in queste annate e comunque ripeto 6 assist e 4 gol sono comunque numeri importanti cioè in 5 altre presenze ragazzi questo terzino comunque ha contribuito 10 volte a un'azione da gol 4 li ha fatti lui e 6 comunque ha mandato un suo compagno 6 volte a fare gol con l'assist quindi attenzione ragazzi perché è un ottimo colpo un ottimo colpo e sono sono curioso di vederlo giocare ragazzi sono curioso di vederlo giocare perché l'Atalanta mi sta per noi esterni su esterni e sono curioso sono curioso veramente Bacher è un nuovo giocatore dell'Atalanta ragazzi quadriennale preso a 10 milioni scippato al verde brema che lo voleva ed è un classe 2000 e per me è un bel giocatore sono curioso di vederlo giocare staremo a vedere ragazzi io direi che video può finire qua quindi se vi è piaciuto lasciate un bel like mi raccomando commentate questi commenti fate sempre per voi cosa ne pensate appunto di Bacher Atalanta e soprattutto ragazzi anche se vi piacere iscrivetevi al canale che fondamentale non costa nulla e per voi è dato il vostro supporto basta che fate clic su iscriviti e se siete iscritti sono fattevi ringrazio di cuore condividete i video con i vostri e vi ringrazio anche loro e attivate la campagna notifiche così non perdete i prossimi video che usciranno link in questione anche dei profili social ttok facebook e twitter iscrivetevi in molti e anche link in estizione del bar di position qui da me che è tutto ragazzi bella grazie a tutti grazie a tutti